Benvenuti al Tg Sordi. La Chiesa ha celebrato la settima giornata mondiale dei poveri. Il Papa ha invitato a condividere la propria vita con chi è in difficoltà. Durante la messa della domenica i fedeli hanno scritto su un cartoncino quali povertà esistano oggi intorno a loro. Sabato si è tenuta nei supermercati della Liguria la colletta alimentare a sostegno di oltre 65.000 persone bisognose. La città metropolitana di Genova ha presentato un nuovo piano per la mobilità sostenibile. All'interno ha inserito la costruzione del tunnel tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Il progetto prevede due gallerie per un chilometro in totale e una spesa di 35 milioni di euro. Il sindaco di Portofino ha commissionato uno studio di fattibilità e ha detto di essere ottimista per quanto riguarda la copertura della spesa. I sindaci del Tigullo vogliono che il depuratore di Chiabari venga costruito in fretta poiché è un servizio necessario. Il comitato, contrario alla sua realizzazione nell'area di Colmata, chiede invece che il progetto venga ripensato visto che costa e consuma troppo e la sua posizione è a rischio. IREN non ha ancora presentato il progetto esecutivo e per il momento l'ITER è in stand-by. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per le concessioni balneari. L'Europa contesta al nostro Paese il mancato rispetto della direttiva che impone di mettere a gara le concessioni. Il Governo ha due mesi di tempo per dare una risposta. l'Associazione dei consumatori adi-consum spera che sia un'occasione per avere più spiagge libere. Ad Assisi si sono riuniti i Vescovi italiani. Il Presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, ha approfondito il tema della pace. Il suo pensiero è andato all'Ucraina, ad Israele e Gaza, e tanti altri paesi in guerra. Il Cardinale ha detto che la pace richiede il concorso di tutte le persone. Ha poi concluso il suo discorso invocando la fine dell'antisemitismo, dell'odio e del razzismo. Parliamo di sport. La Prorecco ha vinto in casa del Salerno 20 a 7 e resta in vetta alla classifica di serie A1 maschile di pallanuoto. Questa settimana affronterà lo Juve a Chiavari nella gara di Champions League e poi ospiterà il Brescia nella piscina di Punta Sant'Anna. In serie A2 si è giocato il derby tra Chiavari nuoto e Lavagna 90 finito in pareggio 11 a 11. Per il calcio in Lega Pro il Sestri Levante in trasferta ha perso 5 a 2 con il Gubbio. La Virtus Centella non ha giocato in questo fine settimana. La partita in programma con la Unventus Next Gen è stata rinviata. Sabato 25 novembre i Biancocelesti tornano in campo a Pontedera. Abbiamo terminato il nostro telegiornale. Appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci! Grazie a tutti!